Seconda Vescovo Elio, didastica Loreto e prima campionessa nazionale Odome, Giorgia La nuova mattina io non la vedo Grazie 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 Prima classificata con punti 184 e 35 Gimnastica Loreto con Brucci, Camudi e Vesco Ed anche per questo podium l'italiano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti